Salve ragazzi e cari amici del web, Andrea Bruno, era diverso tempo che non facevo più dei video, ritorno con un argomento di mio interesse anche perché mi autoreferenzio come uno dei massimi esperti in materia. Quindi quest'oggi faccio questo video per parlare dell'arresto di Pavel Duro, ragazzo che ho avuto anche modo di conoscere. Per chi non mi conosce, io nel 99 feci la prima piattaforma social in Russia. Dopo alcuni anni, siccome frequentavo una ragazza che era compagna di scuola di Pavel Duro, ebbe piacere di conoscermi perché stavo lavorando a qualche cosa di analogo, infatti in quegli anni lì venne alla luce e quindi parliamo anche di un soggetto che occasionalmente ebbe anche modo di conoscere. Quindi giusto per fare un po' anche una precisazione che sono una persona molto accentrata nell'argomento. Adesso non mi occupo più di piattaforma social, mi occupo di programmi di comunicazione criptata, quindi programmi di messaggistica, che permettono di inviare messaggi a pre-chat, a pre-grupi, comunicazione audio e video, con un livello di sicurezza superiore a quello che sono gli standard, anche quelli massimi. Quindi sono una persona che ha lavorato tanto nell'argomento e continua ancora a lavorare nel settore della cyber security, non solo con l'app di messaggistica, anche con sistemi di cloud, sto costruendo un cloud trustless e compagnia bella. Quindi io sono una persona, un tecnico e sembra strano che da tecnico quest'oggi voglio fare un argomento che in realtà tratta un aspetto legale giuridico e lo faccio anche facendo delle considerazioni da tecnico e mi aspetto anche che qualche d'uno, qualche avvocato, qualche giudice, qualche aspetto esperto nella Costituzione, nelle leggi, di anche una sua interpretazione, in modo che riusciamo a chiudere la cerca, fare un discorso a 360 gradi, se no questo video si limiterebbe a un monologo e il monologo, posso interessare a poca realtà, voglio creare un punto di discussione. E come punto di discussione incomincio subito con lanciare una provocazione, ma in realtà non stiamo parlando di una provocazione, è proprio una cosa che concettualmente ha anche un suo significato. Allora, e lo andrò anche a motivare, perché sparare le cose così random senza dare una dimostrazione logica che tiene pieno il costrutto potrebbe fare sviluire, scusate che io manco dell'Italia, da più di trattare il mio italiano perso, potrebbe sminuire il concetto. Allora, infatti adesso sono in una potenza straniera, avete inquadrato una bandiera, che bandiera è? Allora, il discorso è questo. A mio avviso nella società moderna non dovrebbe essere consentito a persone operare nell'ambito dei poteri dello Stato, legislativo, esecutivo e giudiziario, se non hanno un livello di IQ almeno superiore ai 159. Quindi tutti quelli con un IQ 160 in giù non dovrebbero occuparsi nella cosa pubblica, perché mettere in mano a dei deficienti, inteso come persone che hanno dei defici, dei defici cognitivi, non sono nell'apice delle facoltà montali per poter generare o creare qualcosa, oppure comunque tutti noi l'attività non possiamo affidarsi a certi individui, perché altrimenti possono succedere delle cose molto pericolose che riguardano anche la libertà delle persone, di quello che stai facendo te, di come ti muovi, del tuo pensiero e tutto il resto. E c'entra anche questa cosa qui con l'arresto di Pauvidou. è un video abbastanza lungo, ci arriverò per punti e ci arriverò per gradi. Ci tengo anche a precisare che io, come lo dico sempre nei miei video, è anche un problema di noi autistici che non abbiamo remore a non dire certi aspetti, nel test IQ ho ottenuto il massimo, quindi ho 160 nel test IQ. Allora, perché vi faccio questo? E perché lo voglio anche andare a concernere con l'arresto di oggi e con tantissime altre cose. A mio avviso non bisognerebbe neanche permettere a persone con un EQ sotto 160 di andare a votare, perché tutta quella massa lì è massa che non andrà a votare con un voto di coerenza che abbia dietro un ragionamento, di concetto che sia frutto veramente di un suo ragionamento. Sono masse di plagiati e quindi tutta questa gente qui che va a votare in realtà va ad ingrassare la forza decisionale delle lobby che hanno soldi a sufficienza per andare a plagiare tutta questa massa qui di persone poco, chiamiamole deficienti, ma non in maniera offensiva, hanno dei defici intellettivi che non raggiungono il pieno delle capacità che occorrerebbe raggiungere. Sono quindi masse di plagiati che andrebbero a votare pensando di votare per proprio libero arbitrio, in realtà il loro voto è a favore delle lobby, delle cerchi di potere, di che soldi? Una volta sarà la lobby del Big Pharma, l'altra volta sarà la lobby delle armi, l'altra volta andavano a votare per delle decisioni che credono che siano a loro avvantaggio, in realtà si sta andando una mazza di coglioni, quindi per loro bene e nel loro vantaggio delegare nel momento che loro stessi riconoscono che per loro sarebbe opportuno vietare di votare rimarrebbe la parte più intellettuale della popolazione in grado di fare dei ragionamenti di concetto e quindi di riflesso si migliorerebbe anche la situazione delle persone normodotate, perché se lasci far prendere le decisioni importanti che concernono la vuta pubblica alle persone intellettualmente che hanno facoltà montali più spiegliate, di riflesso dai vantaggio a tutta la collettività, quindi anche le persone normodotate ne trarrebbero grandissimo vantaggio, perlomeno si evita che queste persone qui vadino a ledere e a creare danni contro se stessi votando in realtà per cose che loro credono di essere al proprio interesse, in realtà sono stati plagiati perché non avere certe capacità di poter connettere e fare ragionamenti da adito anche a situazioni di plagio mentale e compagnia bella. Ok, perché dico questo? C'entra con l'arresto sempre di Pavel Duro perché adesso farò dei ragionamenti che ho letto più o meno articoli, ho sentito opinioni di blog, persone influenti e quello che è, nessuno è riuscito a fare un ragionamento che abbia un senso logico, perché? Perché non è, sempre il discorso lì, non è nella loro facoltà mentale e a deduzione, mi sono letto le motivazioni dell'arresto e quello che è, da lì si evince che la classe esecutiva e anche presumo la classe, quindi parliamo di, ritorniamo al discorso di tre poteri fondamentali dello Stato, la classe anche giuridica, esecutivo, legislativo e giudiziario, la classe giudiziaria che poi dovrà esprimersi in tal proposito non avendo le facoltà mentali, cioè essendo normodotati quindi come tutti voi, come la gente normale, non riescono a fare ragionamenti di concetto e entrano in grandissimi errori, ma cose che per noi autistici sono cose normalissime, anzi vi dirò di più, per voi normodotati noi autistici siamo persone che abbiamo dei problemi, io vigilo verrà frittata, per noi autistici siete voi normodotati, le persone che hanno veramente dei problemi dovuti di riflesso alla deficienza cognitiva mentale. Ecco, allora, ecco adesso vi ho fatto questo preambolo che è molto importante per andare a capire la faccenda lì di Pavel duro di questo ragazzo qua. Allora, Telegram è un'applicazione open source, chiunque può andare su GitHub, dov'è, quello che è, ci sono progetti Telegram, alla fine Telegram è un protocollo di comunicazione criptata e sopra ci hanno fatto come layer l'applicazione mobile, l'applicazione web, c'è anche l'applicazione desktop, se non erro non è fatta dallo stesso tempo, ma diciamo, è il core, l'engine sotto che fa comunicare i messaggi e open source come sono anche open source le applicazioni che si basano su questa library e ci hanno costruito qualcosa sopra. E io ho fatto un progetto analogo che anche mio ho preso. Nel momento che tu metti un progetto open source che lo pubblichi su GitHub, con licenza GNU, Creative Common, Apache, quello che è, tu te ne disimpossessi perché, diciamo, metti una copyleft license e rendi tutto open source e quindi che responsabilità hai te di una cosa che tecnicamente te ne sei disimpossessata. Anch'io quando feci il social mi chiesero le autorità di avere accesso al backdoor, io glielo diedi nel mio caso, parlavo di tanti anni fa, ero giovane, anche adesso che se ti metti contro di loro qualche cosa rischi, io glielo diedi e tant'è che io vedevo anche degli accessi, degli IP e tutto quello che è, che le autorità stanno a controllare tutto quello che viene di social dalla mattina alla sera e anche di notte, non si fermano mai. Quindi soppero appurato questo. Ma la cosa strana è che io crea un social in Russia, dove si parlava di Russia essenzialmente, come un'alca, e le autorità russe non mi hanno mai chiesto niente, non hanno chiesto accessi, è stato il mondo occidentale, quel cosiddetto libero, quello che hanno arrestato a Sainz così, a chiedermi una backdoor per poter entrare a vedere che cazzo stavano facendo gli utenti. Questo anche per, vedi che ritorno al fatto che siccome c'è l'illusione collettiva, la propaganda immediata e quello che è, chi è del mondo occidentale pensa di essere dalla parte del mondo libero. Poi non conosce i giornalisti russi, non conosce effettivamente come stanno le cose lì, legge solamente notizie di mainstream che sono create ad arte e mettono l'accento per plasmare l'opinione pubblica e quindi di conseguenza il cerco si stringe e rimane ancora, rimandiamo sempre al discorso che chi non ha un IQ sottopra il 159, teoricamente sarebbe meglio che neanche andasse a votare. Allora, il discorso è questo, abbiamo detto che la piattaforma Telegram, come anche la mia, è open source, messa open source, nessuno ti vieta di mettere la black door o far quello che vuoi. Tu, authority francese, non hai, non gradisci che sia fatto così il software e il codice? Fai un fork e fallo come lo vuoi te, metti i tuoi contributo, tanto alla fine, siccome è open source, c'è anche proprio nel concetto che se tu non ti piace quella versione ti fai un fork, te ne fai un altro, tanto alla fine la gente nell'open source installa e utilizza il fork che più lo aggrada, perché io devo installarmi un codice dove c'è dentro roba che mi spia e le della mia parola. Non è da capire, però siccome se l'authority ha queste esigenze, entri, metta dei dispositivi, perché io devo modificare il mio codice open source, perché mi paghi le ore che lo faccio, poi comunque la gente non installerebbe l'ultima versione, va dietro su Github e comunque farebbero forte e continuerebbero come main quella dove non c'è l'authority che sta a vedere dove mi muovo, cosa faccio, la mia opinione di pensiero, la mia libertà di fare quello che voglio, le mie relazioni personali non me le sta a monitorare. Quindi non si riesce neanche a capire perché viene arrestato qualcuno per un software che ha messo open source su Github per quale motivo? Quindi vuol dire che questa è la domanda che voglio fare agli esperti di questioni legali, visto che loro si reputano comunque dei sapienti in materia, io non lo sono, io sono un tecnico, fate ragionare la vostra testolina col cervellino come una noce e cercate di correlare i vostri neuroni e fargli sputare una risposta. Perché l'autore che pubblica un software open source, una volta che tu l'hai pubblicato, cosa vai? E come il bitcoin, non lo fermi più, io posso accogliere tutte le richieste che vuoi te, metto dentro la roba che toglie l'accreditazione, metto dentro le robe che mi spiano, vedo che fanno i casi che fanno gli utenti. Nelle motivazioni, lì del resto c'è anche perché non viene correlato un numero di telefono certo con l'account, queste cose qua. E le aggiungo, ma poi la gente non l'utilizzerebbe più, farebbe un rollback, vede la versione dove non ci sono le supercazzole imposte da questi cervelloni con una a cui più o meno è paragonabile a quella della gallina e quindi cosa si risolverebbe? Niente. Cioè ammettiamo anche che PowerDur dovesse accogliere tutto quello che viene chiesto. E beh, uscirà The Real Telegram dove ci sarà un fork che manterrà il main concept, quindi senza le... perché io devo aggiornare l'applicazione se tu mi metti dentro tutto. Chiunque poi, come anche c'è sul sito di Telegram, viene anche gradito il fatto che tecnicamente chiunque può prendersi i sorgenti, c'è spiegato tutto, come si compilano, che ambienti bisogna costruire, te li compili e tu ti fai il tuo Telegram, te lo fai tu come vuoi, ci togli le parti che non ti gradiscono, dove l'intelligence americana per mano dei francesi, quella che ti spiano, è finita lì. Ecco, questo è un punto. Il secondo punto è proprio di... proprio semplice, banale, no? Per cui non riesco a capire perché questo tipo di arresto stia in piedi, i giornalisti che hanno anche loro come gli avvocati, il cervello comparabile a quello di una noce dentro nel bucio. Ecco, un altro aspetto che proprio non si riesce a capire è questo, no? Io creo uno strumento, quindi diciamo vado, vado nel bosco, prendo, taglio un ciuffo di pelle al cinghiale e faccio il pennello, ok? Bene. Per caso qualcuno usa il mio pennello, io vengo arrestato perché ho usato il pennello, ma quel qualcuno, se non è deficiente, che non ha dei dettici, che ha un cui IQ normale, se lo può anche lui andare a prendere i cinghiali, gli taglia il ciuffetto e si fa lui il pennello. Se non vuole andarsi a prendere il cinghiale, se lo fa con i peli del ratto come vuole, se fa lui il pennello o usa una spugna per spennellare, cioè si inventa un altro strumento e è risolta la baracca. Perché io che creo uno strumento che lo metto open source, quindi mi disimpossesso, devo essere arrestato. Allora anche quello che crea un sasso per battere una noce di cocco può essere arrestato, ma l'altro coglione se vuole va, accoglie un sasso dall'altra parte e se la batte lui la noce di cocco usa il sasso come un'arma. Cioè non si riesce a capire che cosa ha dato in più se uno è normale, che ha la testa, che riesce a connettere a una Q diciamo decente, sopra il 159. Come feci io quando ero ragazzino in Russia, avevo le esigenze di dover comunicare in criptato con chi mi relazionavo quando ero dentro di cose abbastanza particolari, me la sono fatta, io l'appliccio ho messo, mi sono detto dietro, mi sono fatto l'applicazione criptata. Adesso ne ho creato una più professionale, ma chiunque che vuole, senza che gliela creo io, se non ha un cervello limitato che non è un deficiente, che ha quindi i deficienti cognitivi, se la può fare lui il programma di criptazione è una cazzata, cioè per noi con un EQ normale è decente, sono cazzatine. Quindi cosa vuol dire? Che tu a priori stai mandando un mandato d'arresto e metti in prigione uno perché ritieni che tutta la massa di deficienti normodotati non sarebbero in grado di comunicare fra loro con la criptazione se non gliela fa uno che ha un po' più di intelligenza. Stai dicendo questa cosa qua? Allora se questi qui sono dei deficienti a tan punto, togli anche il diritto di votare. Evita che gente che non abbia capacità cognitive in sagoma, che possono ledere se stessi e anche la collettività, possono andare a votare e svolgere ruoli all'interno dei poteri dello Stato, legislativo, esecutivo e giudiziario. Facciamo anche quindi anche il legislativo, vuol dire che il politico che viene eletto per poter fare le leggi non può essere eletto, io sono a favore di sta cosa qua, se ha un IQ sotto il 160, perché sennò poi succedono tutte queste minchiate qua, cose che non si riescono a capire, gente che viene arrestata alla Katsum, gente che non sa dare risposte e compagnia belle. Ecco, questo è un po' il sunto, ho voluto parlare di questa roba qui perché oggi tutti a parlare dell'arresto di Pavel Duro, persona che stimo, come vi ho detto ho avuto modo di conoscerlo perché la ragazza che frequentavo molti anni fa, quasi vent'anni fa, era sua compagna di scuola, è compagna bella, fine del video, sotto vi aspetto nei commenti. Ciao a tutti e alla prossima!